Eccoci qui, ciao a tutti. Vi faccio vedere come utilizzare al meglio la vostra piattaforma Pixel.8U una volta che il video è stato caricato e rielaborato. Innanzitutto devo andare sul portale di Pixel.8U, inserire username e password e cliccare il tasto login. In questo modo accedo alla piattaforma. La mia dashboard è molto semplice e che mi permette di verificare e affrontare più tematiche. Quello che noi oggi andiamo a vedere è la visualizzazione e condivisione dei contenuti video. Quindi qui sulla sinistra clicco il pulsante My Video. Ora posso vedere tutti i video presenti all'interno della mia piattaforma e con un clic vado a selezionare il video della partita che voglio visualizzare, analizzare e condividere. Una volta che avrò cliccato col tasto sinistro del mouse, il sistema mi porterà all'interno della piattaforma video. Ok? Qui fate attenzione al microfono, potete alzarlo o diminuirlo. Io metto un attimo in pausa il video. Quindi avrò la schermata principale che è la schermata del video che con questo pulsante qui potrò anche allargare a tutto schermo. Con HD vado a selezionare il tipo di qualità di video e con questo pulsante qui, lo vedremo a brevissimo, potrò creare la ripresa panoramica, ossia da porta a porta. Qui sulla destra il sistema in automatico, grazie all'intelligenza artificiale, va a crearmi dei tag relativi ai tiri e gol che io posso modificare cliccando questi tre pallini, quindi modificare la durata, la descrizione. Io quindi ho inserito il nome tiro e il nome della squadra con delle icone e mettere anche il numero di maglia di eventuali giocatori. Ok? Benissimo. Un'altra cosa che mi permette di fare il sistema è di posizionarmi su un determinato momento del video, cliccare questo pulsante Mark the moment, andare a selezionare uno delle icone, in questo momento la show tag, qui posso mettere analisi da rivedere, posso modificare il punto di inizio e il punto di fine, una volta che io ve l'ho cliccato salva, vedete, mi va a creare questo tag, quindi una volta che andrò a condividere il video, potrò anche condividere eventuali mie analisi implementative rispetto a quello che il sistema già fa di suo, ossia l'analisi dei tiri e dei gol. Un'altra cosa importante sono questi due pulsanti, i tre pallini mi permettono, cliccando il tasto export, di ricevere una mail nel mio account e di poter poi cliccare il pulsante scarica ripresa HD, per cui zoom sulla palla, scarica ripresa panoramica da porta a porta, e quindi in questo modo avrò la possibilità di scaricare nel mio computer il video fisico della partita. Quest'altro pulsante invece è quello più utilizzato, tasto destro, copia, mi permette di salvare il link da condividere poi o direttamente su queste piattaforme preimpostato, Whatsapp e l'applicazione Whatsapp web, o condividere un link, ok, che permette alle persone di riceverlo, di cliccare e di aprire questa pagina web, solo questa pagina relativa a questa partita. Perfetto. Io ad esempio se clicco con il tasto tiro e clicco il tasto play, a questo punto il sistema andrà a riportarmi in quell'azione che io ho taggato o il sistema ha taggato in maniera automatica con il tasto tiro. Perfetto. Un'altra cosa molto importante, ok, come vi avevo detto in precedenza, è questo pulsante qui. Se io ci clicco sopra una volta e poi due volte, automaticamente il sistema mi va a riprodurre, ok, lo stesso video della partita, però in modalità, eccolo qui, panoramico, da porta a porta. Qui sotto vedete che compare 56. 56 sono le volte che utenti in totale, che sia io o che siano altre persone, sono entrati e hanno cliccato per poter visualizzare il video. In questo caso la telecamera era posizionata bassa e come vedete è praticamente molto vicino del campo. Il campo quindi ha un effetto fisheye un po' più marcato, però come vedete le dimensioni del campo, ok, soprattutto gli spazi fra le parti, eccetera, mi permettono di capire e di visualizzare bene la partita. Questo tipo di ripresa è utile soprattutto per noi allenatori quando, metto in pausa, dobbiamo un attimo valutare come la squadra è disposta in campo, come gli spazi vengono occupati o liberati e anche per l'analisi del portiere è utile il posizionamento del portiere. Perfetto. Come vedete, qui in alto ho il pulsante clip. Clip, che cos'è? Non è altro che sono delle playlist, delle azioni che possono essere singole o multiple create dal mio tag. Quindi, se io voglio condividere, ad esempio, solamente questo tiro, andrò a selezionarlo, a cliccare Crea Clip, vado a dare un nome, ok, posso selezionare o meno l'audio originale, posso selezionare o meno un'eventuale musica da mettere sotto fondo, cliccando questo tasto qui, vedete, il sistema mi va a rielaborare, lo sta rielaborando questa clip. E la stessa cosa può essere fatta eventualmente se io vado a fare delle ricerche. Ad esempio, voglio vedere tutti i goal, selezionerò tutti i goal, andrò a creare una nuova clip e in questo modo, eccolo qui, potrò poi andare a condividere, ok, delle sintesi, in questo caso solamente di tiro e gol, in modo tale che quando andrò a condividere il link, l'utente finale potrà vedere solo la sintesi dei tiro e dei gol e non il video intero della partita. Quindi è un sistema automatico, ok, che mi permette di creare contenuti e condividerli in maniera molto facile e veloce. Come vedete qui sotto c'è la possibilità, grazie all'applicazione o a una nuova sezione della piattaforma che sarà disponibile a breve, di creare anche delle giocate, degli highlights singoli sul singolo giocatore. Ok, in questo caso è stata creata questa clipettina sul giocatore, compare il numero del giocatore, viene indicata che è una giocata singola e quindi si può avere, ok, una clip che come sempre potrò scaricare, condividere tramite mail, condividere tramite link. Qualora io vada a selezionare più momenti di un singolo giocatore, ok, il sistema mi creerà una clip multipla, sempre del, in questo caso del numero 10, come vedete sono 37 secondi, sono quindi più giocate e anche qui, come fatto in precedenza, ok, vedrete, viene fuori la grafica e tutte le giocate del singolo giocatore. Perfetto. Queste sono le funzioni che io posso utilizzare in maniera molto semplice e autonoma all'interno della mia mia piattaforma Pixel.io. Ricordiamoci questo pulsante, utilissimo per la ripresa panoramica, ricordiamoci la possibilità di condividere con un link il video intero della partita e il tagging, ricordiamoci la possibilità di creare delle clip, eccolo qui, come in questo caso, e a mia volta scaricarle fisicamente nel computer, crearvi una mail da poter inviare ad altri collaboratori che a loro volta possano scaricarsi il video o questo pulsante condivisione del link. Bene, ho descritto in maniera generale tutte le funzioni che la piattaforma Pixel.io offre. Per qualsiasi tipo di informazioni, contattatemi. Un saluto da Lorenzo, consulente Italia Pixel.io.